La quattordicesima edizione delle Fonti Awards, che si è tenuta in una delle location di maggior fascino e prestigio a Milano, ha consacrato le eccellenze del mondo imprenditoriale, legale e professionale, che si sono distinte per la rilevanza delle operazioni seguite, l'alta specializzazione e gli ambiziosi progetti messi in campo, senza dimenticare l'innovazione e la leadership. La premiazione è stata condotta dagli anchor di Le Fonti, punto di riferimento nel panorama dell'informazione finanziaria, economica e giuridica, che vanta una community fidelizzata di oltre 10 milioni di persone in oltre 125 paesi. Proseguiamo ora con Professorist dell'Anno, formazione Mercati Forex e CFD. Il premio va a Magdi Hassan Fayed di Forex Gamp. Ottimo, visto che sta arrivando dal fondo. Per lavorare nel mondo del trading da quando ha 18 anni e per aver fondato un'azienda, Forex Gamp, che rappresenta un'eccellenza nella formazione nel settore, per l'ambizione, la competenza e la passione, per l'obiettivo costante di far raggiungere la libertà finanziaria a chi si rivolge e per la sua realtà. Complimenti! Complimenti! Gratulazioni! Diamo il nostro benvenuto a Magdi Hassan Fayed, CEO della Forex Gamp, una società che ha l'obiettivo di trasformare il mondo del trading online senza false promesse e con grande attenzione alla formazione costante. Lei è un giovane imprenditore che ha saputo farsi strada in un mondo molto competitivo. Ci spiegherebbe quali strategie ha messo in campo per raggiungere questo obiettivo? Beh, alla fine Forex Gamp nasce per creare una nuova era nel mondo dell'educazione finanziaria. L'obiettivo primario era quello di abbattere un po' lo stereotipo di questa figura e abbattere anche quello che sono gli obiettivi primari che nel mondo dei social fa influire soprattutto nei giovani. Come ha detto anche lei, vista la mia giovane età appunto, avendo 26 anni, conosco bene la mentalità di me coetane e volevo proprio entrare e cambiare questa. Quindi questo è stato il nostro obiettivo numero uno e ci stiamo riuscendo. I traguardi raggiunti fino adesso sono tanti. Le chiedo invece quali sono i risultati di cui va più fiero e quali gli obiettivi per il futuro? I risultati più importanti sono ormai i più di 500 studenti formati dalla Forex Gamp allo stato attuale. Fino al giorno d'oggi siamo arrivati a 556 studenti e gli obiettivi sono molteplici in realtà. Arrivare a formare più di mille ragazzi e ragazze in questo mondo di educazione finanziaria, cercare di portarla come materia anche nelle scuole, come in altri paesi soprattutto del Medio Oriente e un altro obiettivo importante è accrescere la presenza sul territorio italiano creando magari un'educazione finanziaria e un trading online made in Italy. La Forex Gamp di cui è CEO questa sera ha ricevuto un prestigioso riconoscimento dal Comitato Scientifico di Le Fonti per essere un'eccellenza nella formazione del settore del trading online. Cosa pensa di questo riconoscimento e chi vorrebbe ringraziare? Sicuramente il ringraziamento più importante va alla mia community che ha creduto fin dal primo giorno, dal primo studente all'ultimo nell'educazione che Forex Gamp vuole andare a trasmettere in ogni ragazzo anche perché non è scontato in questo mondo e in questo periodo fidarsi di un'azienda e affidarsi a un'azienda. Di conseguenza il mio primo ringraziamento va a questi ragazzi, va anche a tutto il mio team e soprattutto anche al comitato che ha visto nella realtà di Forex Gamp un qualcosa di importante in Italia e un qualcosa soprattutto di cambiamento. Qualora fosseri candidato tornerebbe e perché? Beh tornerei perché ovviamente sarebbe un grandissimo piacere, un grandissimo onore già anche essere un ambiente del genere e quindi nella borsa di un paese che sta nel mio cuore, cioè la borsa italiana, già questo è un prestigio per me quindi tornerei anche dieci volte. Grazie a tutti.